Ben trovati all'appuntamento con il meteo, queste le previsioni del tempo di domenica 27 ottobre. Continua l'azione dell'anticiclone Giano Bifronte con l'Italia a due facce, cieli grigi al nord e sole e caldo al centro e al sud. Molte nubi al nord con l'arrivo di piogge, generalmente deboli sulle Alpi, tra Piemonte e Lombardia, sul friore di Venezia Giulia e poi in Liguria. Al centro bella giornata di sole su tutte le regioni, possibile formazione di foschie sulle pianure toscane, umbre e laziali. Al sud generali condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi, clima caldo con temperature che raggiungeranno di giorno i 27-28 gradi specie in Sicilia. Sulla campagna l'anticiclone subtropicale garantirà condizioni di bel tempo e l'arrivo di aria molto mite di origine africana. Il cielo sarà in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Temperature in aumento, venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza, mare poco mosso.